Ma? Oddio? No! No! Addio! Addio! Zerek addio! Ma il camion continua a volare! Ahahahahah! Ma cosa? Su Fortnite sono state aggiunte le nuove macchine e io ho deciso di sfruttare un glitch per volare con le nuove macchine vedremo che cosa succederà insieme a Zerek Ehi lo sapevi che se premi il tasto del like diventa blu? Provaci anche tu adesso! E non dimenticare di iscriverti al canale perché ho scoperto grazie a YouTube che la più della metà delle persone che guardano i miei video non sono iscritti al canale E non dimenticare di usare il coach OctiPFI nello shop di Fortnite Ultima cosa velocissima Seguimi su Instagram OctiPFI perché ogni sera ho chatto con alcuni fan quindi mi raccomando non perderti questa occasione Ma detto ciò andiamo subito al video Allora Zerek ti spiego Allora sicuramente questo glitch verrà patchato strasubito dalla Epic quindi raga provatelo assolutamente prima che venga patchato del tutto quindi mi raccomando fatelo Zerek buttiamoci dove ti ho detto io Allora vi spiego questo glitch ci può fare con tutti i camion solo con i camion non con le altre tipo di macchine della mappa quindi in realtà voi potete farlo dove volete il discorso è che secondo me Zerek andrebbe fatto tipo verso la safe finale perché altrimenti se tu sali in alto e poi la safe si chiude non so cosa succede cioè non so se col camion vai sopra la safe oppure no adesso ci proviamo c'è già un camion qua però ce n'è uno anche qua quindi non c'è un problema anzi ce ne sono addirittura due per questo glitch serve una roba molto semplice sai cosa? no e una tannica di benzina stop ah arrivano dei nemici bisogna ucciderli eh questo ok l'ho ucciso e adesso oh ho visto anche la pompa di benzina che ci servirà dai accapariamoci a casa ste kill ok distrutto distrutto ascoltami 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 guarda qua ci sono tre tanniche di benzina in totale molto bene fai quanto più materiali riesci e mi servono anche pompa del nonno cioè colpi colpi del pompa volevo dire scusa spiegami un po' meglio sto glitch eh adesso te lo faccio vedere bro intanto tirati lo shield ok faccio un po' di legna ma c'è dimmi un po' cioè in poche parole è come il bug della safe quando c'è l'assemble event cioè ne vogliamo esatto noi vogliamo sopra la safe praticamente si esatto adesso lo farò io e poi lo fai anche tu e poi lo facciamo insieme ok tanto ci sono vari camion anche perché devo capire cosa succede se io scendo dal camion nel mentre che vola capito cioè se semplicemente cado se esplode se continuo a salire in alto capisci se no in caso si ma se no in caso prendiamo le banserine così non moro eh si trovarle le banserine eh lo so eh questo è un problema allora 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 beh l'occorrente per farlo ce l'abbiamo ora sto semplicemente lutando per farmi un inventario per dopo questo è quello che mi serve ora tra l'altro sono anche quasi full di legna quindi perfetto perfetto allora sei pronto per fare il glitch ehm si ah ovviamente un requisito fondamentale del glitch è avere il coccionante più fine nello shop per forza tu ce l'hai chiaro che c'è e allora a posto allora non c'è problema vieni con me vieni con me ti spiego ti spiego ti spiego tu tu dovevi lanciare la tannica di benzina esattamente in questo posto qua guarda qua ora salgo nel camion ma il camion continua a volare ok hai capito ma è facilissimo vieni qua vieni qua ora sai cosa proviamo lo riproviamo però stavolta tu sali qua dietro guarda vieni con me ma tu non hai preso danno da caduta si l'ho preso ho semplicemente buildato vieni qua guarda io lo lancio ok ora tu sai cosa devi fare entra dentro il camion no 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 addio addio zerek addio no bro ma quanto bello è sto glitch è bellissimo allora se noi saliamo entrambi nel camion saliamo entrambi in cielo eh però c'è un problema eh eh questo è il problema infatti questo è il problema più grande ma per questo ti ho detto che bisogna farlo nella safe finale se noi lo facciamo nella safe finale siamo a posto allora sai cosa ci servirebbe però la bouncerina così a una certa scendiamo giù però ci servono delle bouncerine bro e ci serve anche tanniche di benzina però quelle si trovano dappertutto quindi in realtà sono facili da trovare tra l'altro so già dov'è il prossimo camion quindi lo usiamo vieni con me vieni con me servono le bouncerine bro servono per forza per forza bro eccolo qua il camion già lì subito fra noi questa partita la vinciamo hai capito noi la vinciamo di brutto con questo super glitch raga mi raccomando dovete lasciarmi piace per questo glitch e soprattutto scrivermi se l'hanno già patchato o no in caso l'avessero patchato ma soprattutto ditemi qual è il vostro modello di macchina preferito il mio zerek è il pick up il tuo il mio è diciamo la lamborghini ok eh vabbè era ovvio che fosse la lamborghini tutti diranno lamborghini sinceramente c'è la lamborghini nemica bro davanti a noi vieni con me facciamo il glitch facciamo il glitch quando i nemici quando i nemici allora aspetta sali nel camion e mettiti al secondo posto eh ma non posso cioè sali si che si può cambia posto ok fermo lì fermo lì no ok no ho sbagliato è il lato inverso cioè dall'altra parte dove c'è la scala aspetta aspetta lo so ma no ehi perché non lo fa più è perché guarda dove l'ha infilata ascoltami ok ora vai vai indietro no ehi no ascolta aspetta 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 perché non lo fa più non dirmi che l'hanno pacciato adesso no ma ci credi no aspetta un attimo no esce dal camion esce dal camion devi uscire per forza altrimenti non me lo fa fare no ok no c'era quasi ok mi sa che adesso perché non lo fa senti andiamo a uccidere i nemici ci pensiamo dopo pronto inizia a sparare eh va bene vai 100 di danno gli ho fatto bro ma guarda che il camion ok distrutto i camion spaccano io sono nella lamborghini bro sono nella lamborghini anche l'altro è bianco easy 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 portiamoci a casa le loro le loro tutte le oh oh qua c'è un altro camion serio easy ah e se vuoi c'è anche una lamborghini però dobbiamo andare in safe anche bro ehm abbiamo un po' di problemi no fra ma sto glitch è stradivertente sto glitch è stradivertente secondo me il glitch può spare solo con macchine che non si sono mai mosse capisci cosa intendo quindi tu puoi farlo solo con camion che non si sono ehi non ho più il mio pompa esatto era quello che volevo fare aspetta che io c'ho uno di video ok eh però qua c'è la chiave inglese non so se funzionerà vediamo un po' vieni sai una cosa prova a scendere prova a scendere no non capisco perché non vada più amici raga non capisco perché non va più sto glitch ma che cavolo 20 20 20 60 60 in tutto gli ho fatto 20 craccato bro bro gli sto craccando ok ok è gestibile è gestibile 20 20 bianco questo bro 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 uno è bianchissimo te lo dico ok no ok morti bro non riesco più a fare il glitch riesci a portarmi un pompa ce l'hanno si ce l'hanno però abbiamo brah non riesco più a fare il glitch oh 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 c'era una tannica di carburante nel mezzo della strada completamente a caso va bene va bene gioco va bene comunque diciamo che non è molto semplice guidarlo no il cambio non è senso da guidare il glitch cioè le prime due volte c'è uscito alla prima proprio stra easy ok adesso ci riproviamo nemici 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 35 bianco oddio bro bro mi stanno sparando anche a me un altro nemico eh sto arrivando atterrato penso me ne vado me ne vado me ne vado me ne vado distrutto ok ammazzato il mio camion è fuori sono continuando a spararmi bro dobbiamo andare dobbiamo andare sai cosa farò io andrò in acqua andrò in acqua no non me lo fa fare così non posso darti ascolta vanno bene vanno bene no niente bro non va non va più vuoi dirmi che l'hanno già facciato no non può essere no ecco questo non ci voleva questo non ci voleva vabbè vabbè non siamo riusciti più a replicare il glitch bro ma non so perché ma che cavolo ma che cavolo ma che cavolo ho